E' sano sentirsi sempre ignoranti, credo sia la base della crescita, Marilisa. Io più vado avanti più mi sento ignorante. E la cosa bella è che più studi più ti sentirai ignorante, perché ti rendi conto che c'è sempre di più, ci sono sempre più cose che non sai. E più ti appassioni alla conoscenza, più non hai tempo per... cioè vorresti veramente avere giornate di 180 ore. Perché c'è talmente tanto da poter fare, c'è talmente tanto da scoprire, c'è talmente tanto da comprendere. Tra l'altro, amici miei, non so se voi ve ne siete resi conto, ma noi stiamo vivendo forse uno dei momenti più fortunati della storia. Perché oggi abbiamo la conoscenza disponibile ovunque. Quindi, quando parlavo dei piani di evoluzione l'altro giorno, oggi siamo in un momento in cui chiunque, se vuole, può conoscere tutto ciò che vuole a portata di click da un telefonino. Cioè abbiamo tra le nostre mani degli strumenti che sono... che erano impensabili fino a qualche decennio fa, ma anche fino a neanche dieci anni fa, e che oggi sono alla portata... cioè ti danno la conoscenza tra le mani. Peccato che la maggior parte delle persone lo usa per fare altro. E questa è la cosa interessante. Quindi... quindi usiamoli al meglio. Grazie a tutti.